Cittadella, Spezia e Novara mancano 270 minuti alla fine di un campionato cadetto in cui l'incertezza la fa da padrona. Queste tre partite decideranno il destino del Bari. I Galletti, dopo una serie di risultati utili, sono riusciti ad inserirsi nella lotta play-off. Vincendo stasera con il Cittadella potrebbero addirittura agganciare il sesto posto. Infatti i risultati di sabato hanno sorriso i Biancorossi con il mezzo passo falso del Crotone in casa della ormai retrocessa Juve Stabia, agguantata solo nel finale in un rocambolesco 2-2. La sconfitta dell'Avellino che cede il passo al Modena, ormai ad un passo dai play-off, vince in rimonta anche il Cesena che espugna un deserto granillo e si aggiudica matematicamente ai play-off, assieme al neopromosso Latina di Breda, di scena anch'esso stasera contro il Siena. All'ultimo respiro invece è il solito Mancosu a regalare tre punti vitali al Trapani che rilancia le proprie quotazioni play-off, agganciando momentaneamente il Bari. Contro il Cittadella il duo Alberti Zavettieri dovrebbe poter schierare dal primo minuto al centro della difesa il recuperato Polenta. Intanto Capitano Defendi si sta allenando su buoni livelli e potrebbe ricominciare con una maglia da titolare. Verso il recupero anche Nadarevic, ma in questo caso una decisione verrà presa solo a poche ore dalla partita. In attacco infine si rivedrà Galano dopo la squalifica di un turno. I tifosi bianco-rossi stanno vivendo uno stato di fibrillazione permanente. Tra la sfida coi veneti di questa sera e la terza asta fallimentare per la vendita del club. Infatti proprio sul fronte asta di domani, oltre all'esse Bari Calcio 1908 di Paolo Montemurro e del Varesino Rosati, corrono voci sul possibile interesse di Giorgio Ormani e di alcuni suoi collaboratori. L'indiscrezione clamorosa è stata lanciata dal quotidiano torinese Tutto Sport, secondo cui la prestigiosa accordata milanese potrebbe tentare l'aggancio al galletto. Non ancora certi, spiega il giornale, i tempi di intervento nell'affare. Possibile una partecipazione all'asta di domani, ma anche qualche giorno in più di riflessione, in vista di un'ipotetica quarta convocazione. Re Giorgio sarebbe stato colpito dall'entusiasmo contagiante di queste ore. Già patron dell'Olimpia Milano nel basket, Armani approderebbe al calcio, convinto dalle potenzialità di una piazza dalla grande passione. Intanto stasera al San Nicola sarà il signor Fabri della sezione di Ravenna ad arbitrare Bari Cittadella. Fischio d'inizio alle 19. Fischio d'inizio alle 19.